Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Il programma che è stato pensato per queste giornate che si inseriscono anche nel lungo novenario preparato per la festa dell'Assunta di San Rocco, tanto venerati in questa comunità parrocchiale, avranno il sapore di questa straordinaria presenza delle reliqui di Santa Bernardetto, cominceremo il 6 di agosto quando alle 17.30 dinanzi al piazzale della nostra chiesa parrocchiale accoglieremo le reliquie di Santa Bernardetto con una celebrazione di accoglienza e alle ore 19 la Santa Messa preseduta dall'Arcivescovo Monsignor Felicia Crocca. Dopodiché la chiesa rimarrà aperta per la venerazione delle reliquie da parte dei fedeli per chi vorrà liberamente da tutta la diocesi venire qui nella nostra comunità a pregare dinanzi alle reliquie della Santa Bernardetto. Il giorno successivo, il 7 di agosto, dedicheremo la giornata alle vocazioni perché Bernardetto è stata scelta da Dio e quindi vogliamo pregare per le vocazioni perché tanti nostri giovani possano scegliere di camminare con Cristo e dedicare il loro cuore al Signore, proprio come obbedientemente ha fatto Santa Bernardetto. E dunque la Messa che celebreremo alle ore 19 sarà proprio animata dai seminaristi della nostra diocesi di Benevento con l'accensione della lampada per le vocazioni. Il giorno 8 di agosto la giornata sarà dedicata prettamente agli anziani e agli ammalati. Alle ore 19 sarà accesa durante la celebrazione eucaristica la lampada proprio per gli anziani e gli ammalati e durante la Messa sarà amministrato anche il sacramento della unzione degli infermi. Il giorno 9 di agosto la giornata sarà dedicata alla pace. Quindi durante la celebrazione della Messa sarà accesa la lampada della pace per affidare veramente a Maria, regina anche della pace, la nostra comunità e l'intera diocesi. Vivremo la processione alle 21.30 o flambeau per ricordare e fare memoria della processione con le candele che si fa a Lourdes e poi saluteremo le sante reliquie e affideremo la nostra comunità e l'intera diocesi alla Vergine Santa di Lourdes.